per voi, farai solo 9 e 40 intanto? se sarei da un roggio o non? Laura! 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 9 e 8! ma scusa però aspetta, fai 9 e 8 perché sono 9 e 40? eh perché la mamma ti insegna alla piccola che 8 e 40 8 e 40? tranne il mattino che diocarpi oh! io cammi il uomo! oh! io cammi il uomo! ma non bello, facci l'abbraccio tutti! dov'è il cane? oh! oh! tigre! tigre! berga! berga! stai pensando! andrea! lori! tigre! no basta, un po' di tre oh!